Energia, fonti e forme. L'energia serve per il corpo umano, per illuminare, per alimentare apparecchi elettronici. L'energia è la capacità di un corpo di compiere un lavoro, la forza che sposta un oggetto. Le fonti di energia sono il sole, il calore, ad esempio il ciclo dell'acqua riscalda i mari, crea vapore che poi precipita con la pioggia. L'energia idrica, lo spostamento di masse d'acqua. Inoltre il sole, attraverso il calore, fa crescere gli alberi. Poi ci sono fossili di pianti e animali che si trasformano in combustibili fossili, fonti di energia, come ad esempio il petrolio. Il sole determina la differenza di temperatura tra i poli e le fasce tropicali e questo crea i venti, e cioè l'energia eolica. Le fonti di energia non solari sono l'energia geotermica, che proviene dal calore del sottosuolo, l'energia nucleare, derivante dalle particelle dell'atomo. Le fonti primarie sono fonti così come si trovano in natura, ad esempio il carbone, il petrolio e il gas naturale. Le fonti secondarie invece derivano dalla trasformazione delle fonti primarie, ad esempio l'energia elettrica. Le fonti rinnovabili non si esauriscono, ad esempio il sole, l'energia idrica e l'energia geotermica e l'energia eolica. Invece le fonti non rinnovabili si esauriscono dopo essere utilizzate, come i combustibili fossili, petrolio, gas naturali e carbone. Uranio. L'energia meccanica, il vento che soffia, gonfia le vele delle barche e le fa muovere. C'è imprigionata nelle molecole del carbone, c'è l'energia luminosa, quella del sole, l'energia termica, il calore. Ad esempio la benzina ha energia chimica, brucia e si trasforma in calore, e cioè in energia termica, che poi muove il motore della macchina e si trasforma in energia meccanica. Il dispositivo che permette il passaggio da uno stato all'altro, in questo caso il motore fa sì che si possa trasformare l'energia chimica in energia termica in energia meccanica. Nel passaggio, in ogni caso si disperde sempre energia sotto forma di calore. Allora parliamo di rendimento energetico. Ad esempio una lampadina trasforma energia elettrica in energia luminosa, ma si riscalda moltissimo, cioè disperde molta energia termica. il rendimento è uguale al rapporto tra energia fornita diviso energia restituita ed è minore di 1, cioè si disperde sempre energia. Il corpo ha un rapporto tra energia fornita e restituita pari al 15%, cioè disperde molta energia assimilata con i cibi in calore.